Io quando dico ho paura di prendere il cagotto, ho paura di vomitare, io la faccio ridendo ma nella mia testa, cioè inside out, c'è paura che veramente è impaurita. Faccio tanta fatica, tante volte anche a svolgere delle mansioni quotidiane perché mi parte la para di dire cazzo se oggi vomito e lei dice no ma ti tranco non hai fatto nulla per cui devi vomitare. Eh però se dopo poi magari ci scherzo sopra, sì rido però allo stesso tempo nella mia testa, però magari tra due ore vomiti. Oggi in questa nuova puntata di Mille Pare abbiamo un farmacista, un insegnante, un pilota, un intenditore di profumi, Mattia Stanga. Volevo vedere dove arrivavi. Non lo so, stavo pensando a tutti i video che hai fatto su TikTok, forse direi più content creator, forse è più giusto. Un cane anche se no. Ho visto sì il cane. Una mamma ogni tanto. Una mamma. Vabbè un po' di tutto. Siccome in questo podcast noi facciamo un gioco, ti faccio solo una domanda che anticipa questo gioco. Easy o para essere il conduttore del primo del festival di Sanremo? È un mix. Para perché ci sono un sacco di pare collegate al fare il conduttore ad essere in live. Easy perché è quello che voglio fare. Quindi tante volte dico, dai, non stai andando a risolvere un problema di matematica che non la studi da cinque anni. E tu avevi già fatto qualcosa in televisione? Allora, io sto facendo in televisione, non in diretta. Sto facendo il mio programma Stanga in the Sky su Sky, in format comedy. Però in diretta diretta l'unica cosa che avevo fatto era due anni fa ad intervistare tutti i cantanti in gara all'Eurovision. Il problema è che erano tutti inglesi. Cioè parlavano tutti in inglese. Quindi yes, hello, how are you? Yes, yes. E com'è andata? Yes. E' andata? Yes. Beh, alla fine tu, come dicevi, affronti tutto con ironia. E una delle cose più belle che io adoro delle tue storie, dei tuoi contenuti, è quando parli o del rischio cagotto, quindi il canottiera consigliata, o il vomito, le farmacie, insomma. Dici che è molto meglio affrontarle così, con ironia. Ti aiuta tanto di più? A me non l'aiuta, nel senso, mi aiuta molto a, stavamo parlando prima, esorcizzarle, cioè nel senso a riderci sopra, mi aiuta perché effettivamente io sono realmente impara quando parlo di queste cose. Cioè io quando dico ho paura di prendere il cagotto, ho paura di vomitare, io le faccio ridendo, ma nella mia testa, cioè inside out, c'è paura che veramente è impaurita. Il fatto di riderci sopra mi dà quel, ma sì dai, può andare anche bene, cioè in caso si va male l'hai presa sul ridere. Però io davvero faccio tanta fatica, tante volte anche a svolgere delle mansioni quotidiane perché mi parte la para di dire, cazzo, se oggi vomito? E lei dice, no, ma ti tranco, non hai fatto nulla per cui devi vomitare. Eh però se dopo, poi magari ci scherzo sopra, sì rido, però allo stesso tempo nella mia testa, eh però magari tra due ore vomiti. Ma quindi possiamo dire che sei ipocondriaco? Sì, cioè sì, ho paura delle malattie, quindi sono ipocondriaco, ho paura di star male. E la maglia della salute l'hai messa? La maglia della salute oggi no. Allora la maglia della salute la metto tutte le notti, cioè io vado a dormire con la canutiera. Poi tipo oggi sapevo che dovevamo incontrarci. Prendo la macchina, quindi non ci sono grandi spostamenti. Allora ho detto, non mi metto la maglia della salute perché qua fa caldo, tra virgolette. Poi dobbiamo parlare magari, sai, parli, ti agiti un po' e sudo. Sudo un botto. Anche io, questo pure, ecco io ho il sudore. Non dovrei prendere troppo freddo, tiè. Poi io ho paura anche di dire queste cose perché non dovrei vomitare, non dovrei prendere tanto freddo. Tutto insieme. E quindi oggi mi sono detto, dai, tranquilla, tu con quella dolce vita lì leggerina, prendi un freddo che non è sotto neanche la canutiera. Ma io le vampate di caldo. Non è sotto neanche la canutiera. No, in realtà così sto bene perché so che se dovessi sudare il respiro, mi viene l'aria, se no mi viene l'ansia. Ma tu hai ansia di sudare perché potrebbe vedersi o hai l'ansia di sudare perché poi puzzi? Entrambe le cose. Io anche puzzo. Eh sì. E poi ho paura che pensano che non si lavo. Ma io mi lavo? Mi lavo troppo. Con il sapone di Marsiglia la mattina. Quando tu sai di avere, tra virgolette, non un problema ma un sudo, puzzo. Magari entro in una stanza con persone, tra virgolette, che sono mie amiche però non c'è quella confidenza, allora metto le mani avanti e dico, raga, puzzo. Ve lo dico, così non gli do nessun modo per prendermi in giro. Io sempre dico sudo, sono la stessa persona. E se sudo mi viene l'ansia, la tachicardia faccio, no, oddio, sto sudando e sudo ancora di più. Su di freddo poi, poi vai in bagno e cerchi di lavarti con il sapone. Sì, 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 ma fai solo pe... no, vabbè, è un casino. Per Sanremo mi ha proclamato Amadeus il 24 novembre, sì. Il giorno prima mi chiama dall'ospedale perché io, prima del covid, mi ero fatto mettere in lista perché io ho un problema di sudorazione, appunto, sudo tantissimo e mi dovevano operare per il sudore. Mi fanno, ciao, domani ti operiamo? Dopo quattro anni. Mi faccio, no, io domani non posso. Come no? Sei in lista d'attesa da quattro anni e faccio domani, probabilmente, uno dei giorni più importanti della mia vita. Mi sa che continuerò a sudare. Ah, ok, allora aspettiamo il prossimo richiamo, che mi chiameranno tra cinque anni, probabilmente. Quindi per i prossimi cinque anni continuerò a sudare in modo esagerato. Ti faccio un out-out. Vai. Il prossimo anno potresti essere il conduttore di Sanremo o il co-conduttore di Sanremo solo se ridai l'esame di macroeconomia? Vabbè, lo faccio, c'è nel senso, lo provo, se poi non lo passo non faccio le conduttore. Oppure devo tipo convincere la professoressa e dirle prof. La saluto in televisione dal palco di Sanremo. La saluto in televisione dal palco di Sanremo, un 18, almeno è stato così. 11 volte. Non fa più ridere questa cosa. Non fa più ridere. Che poi tu hai fatto una festa pazzesca per la tua laurea. Io ho visto... Praticamente hai fatto questa festa di laurea in cui era tema fattoria. Tema fattoria, sì, perché sono un paesano e loro ho detto, sai che c'è, facciamo la tema fattoria. Ma c'erano persone vestite da tovaglia, da picnic? Sì, fatto. Perché io faccio un po' le feste... Lalo lo sa, faccio un po'... Faccio, due anni che lo faccio. Festa tema. Infatti adesso è febbraio, preparati che sto già pensando alla prossima. Perfetto, l'ultima volta sono venuta vestita da Britney Spears. Esatto. Tutti le odiano, tutti che mi insultano fino al giorno in cui c'è la festa tema. Poi c'è un momento, tipo alle due pomeriggio, in cui i messaggi cessano. E poi tutti la sera vestiti meglio di me. Perché tipo al mio compleanno ero vestito da Zac Efron. Ed era un vestito easy rispetto a quello di tutti gli altri. C'era la gente che era conciata su in un modo. Sì, sì, io ho visto... Ale con un nostro amico che è venuto con un cartone, lui fa l'artista, e si è vestito da Nokia. Sì, sì. Praticamente, cioè una roba folle con Snake. Allora io so che tu sei molto legato alla tua famiglia. Moltissimo. Io amo tua mamma. Grazie. Cioè, mi fa tanto ridere. È pazza. E così, cioè mette proprio allegria, è super positiva, voglia di fare. Cioè, sembra proprio una ragazzina. Sì, sì, sì. No, ma lei si sente ragazzina. Il problema è che dopo aver fatto la matta, rimane bloccata una settimana con la schiena. Quindi... Com'è stato staccarti un po' dalla tua famiglia, venire a Milano, all'università? Pesissimo. No, l'Uni l'ho fatta a Brescia, in realtà. L'hai fatta a Brescia? Sì, perché mio papà mi aveva detto, vuoi andare a fare l'università a Milano? Ok, vai. O fai il pendolare. Perché io sinceramente devi pagarti l'affitto. Non ne voglia. Oppure ti darvi un lavoro? Io ho detto, scriviamoci a Brescia. Una delle mie altre pare è perdere momenti preziosi con la mia famiglia. Però poi mi rendo conto e dico, cioè, nel senso, è normale che perdi momenti, tra virgolette, con la tua famiglia per creartene tuoi da solo. E la roba lì è ancora un po'... Sei bravo. Io invece, secondo me, faccio più il contrario. Cioè, io i miei genitori li vedo poco. E tu li vedi poco, infatti, lo vedo. Li vedo poco. Io mi sono trasferita a Milano nel 2020. E a volte anche non li ho visti per tre mesi, mi è capitato. Sai, secondo me non ho mai avuto la fase del devo vedere, cioè, il fatto che ti ha paura di perdere i momenti. Non lo so, forse perché talmente che volevo venire a Milano, che ho detto, adesso che sono a Milano, sono a Milano, per fare tutte le cose che... Poi, cioè, sicuramente ci sentiamo, la fortuna del telefono è quello che ti senti, che chiami mille volte al giorno, quindi ti racconti le cose. Però, non lo so, mia mamma la sente tantissimo, ad esempio. Eh, no, infatti, immagino. Io uguale. Mia mamma è brava a farmi sentire, tra virgolette, il... In colpa o il peso. Cioè, magari io davvero non la vedo per due giorni. Mi chiama. Mi faccio, ma sono un attimo impegnato. Eh, vabbè, ma... Ormai tu mi hai dimenticato, eh. Non mi racconti più niente. Mi faccio, mamma... Io la mando a cagare, prima di tutto, e le butto sul telefono, perché io dico, ma tu sai che io ho questo problema? Mi fai sentire in colpa e poi io inizio a smacchinare, a farmi le... Quindi, vabbè, non riesco tanto a staccarmi da casa, perché sono tanto vicino. Brescia ci metto 50 minuti. Se fossi a New York, prenderei un volo a settimana. Penso io se andassi dall'altra parte del mondo. Non torneresti più. Tipo, ciao mamma, ci vediamo l'anno prossimo. Fai l'exchange here. Pensa che Emily, questa cosa del fuso orario, beh, fa venire un'angoscia. Cioè? Sta malissimo, se la vive malissimo. Cioè, il fatto che noi, magari quando siamo andate in America, c'erano tutte queste differenze di orario, e dall'altra parte le faceva venire un'angoscia. Quando c'era anch'io? Alcocella, eh? Sì, sì, sì. Se la vive male. Comodo, quel fuso orario lì di Los Angeles è molto comodo, eh. Sì, facile, come jet lag, comunque. Non vorresti dormire tutto il giorno. Ho iniziato a riprendere l'orario ora. Infatti mi hanno detto, quando andiamo a Los Angeles? Mai più. Tu, tipo, in America, a Los Angeles, sei stata male. Hai vomitato. Però comunque, vedi, io mi ricordo anche quando le persone vomitano. Follia. Cioè, io, infatti, ho detto, Dio, ma quando? Vero? Ve lo ricordo. Infatti io, perché tu avevi vomitato, dopo cambiamo il discorso, e ci eravamo visti. Il giorno dopo partivamo! E tu mi avevi detto che quella sera eri stata male. Io, ovviamente, partita l'ipocondria, perché pensavo avessi il virus. In che senso hai vomitato? Ti ho fatto... Ma hai vomitato quante volte? Ma te che tira fuori il foglio, raccontami di più. Ma hai vomitato perché hai bevuto qualcosa? Ma hai vomitato perché hai mangiato? O hai la febbre? Quando avevo capito che non era un virus, allora potevo parlarti. Se tu mi avessi fatto intendere che poteva essere anche lontanamente un virus, io non ti parlavo più. Cambia di aereo? No, iniziava a esserci tra di noi un vetro e io ti ignoravo completamente. Ma poi io vado in giro con la mia valigetta delle medicine, quindi... È vero che tu mi dicevi che vai in giro? Sempre? No, vabbè. Oggi no, perché sono qua vicino. Però se faccio Milano-Brescia... Eh, tipo c'è una distanza per la quale dici adesso questa sì, qui no? Ho un posto che... No, no, sì, è un posto che se sono vicino a casa, se sono vicino al posto in cui ho la valigetta o posso tornare a casa facilmente, tipo oggi ho la macchina. Se adesso dovessi stare male, dico raga sto male, cinque minuti sono a casa, quindi a posto. Ma se sono tipo in giornata devo andare a Roma, me la porto. Se in giornata devo andare a Firenze, me la porto. È di tutto in quella valigetta? Allora, io ho delle card, te ne farò pescare una e tu mi direi che cosa ti viene in mente. Oddio, canzia! Oddio, vuoi scegli... Scegli le. Punto debole. Ok. È tutto naturale guida, mi le pare. È stata proprio una scelta casuale. Punto debole. Probabilmente la famiglia, cioè nel senso... Però famiglia quindi... Anche i cani. Anche i cani, anche i canici. Cioè la mia famiglia, il mio... Le persone che ami, cioè la tua cerchia. La mia comfort zone, sono la famiglia. Cioè quando sto male, torno a casa. Quando è, chiedo a mio papà. Quando è, cani. Quello. Quindi, infatti, molte mie paranoie, tra virgolette, molte paure sono anche relative al... Può succedere qualcosa a loro. Preferisco succedere a me piuttosto che a loro, a parte il vomito. Quello se lo tengono tutti. Hai mai paura di non essere un bravo amico? Un bravo amico tante volte... Cioè, non sono semplice. Cioè, con i miei amici io... Loro anche, non sono dei peperini. Però io mi rendo conto che hanno tanta pazienza con me. Sono più bravi loro rispetto a me. Non è facile. No. Non è facile perché io, ad esempio, delle amistizie le ho perse, ovviamente. Quando mi sono trasferita a Milano, facendo questo lavoro, non è... Non tutti capiscono. E io tante volte, secondo me, non sono stata brava a capire loro. Momento POV. Vai. Allora, se hai una commessa impara durante i saldi. Cioè, tu le chiedi, può guardare il magazzino? Sì, sì. Vai in magazzino, non guarda. Fa finta di guardare se c'è qualcosa in magazzino. Ritorna, no, è finito. Due secondi dopo. Due secondi dopo, controllato, è finito. Oppure con il loro tablet. Sì. Mi dici il codice? Eh, non lo so io il codice. Non è disponibile. No, è disponibile a Caltanissetta. Non ce la facciamo a farla arrivare, mi spiace. Tu hai fatto la commessa? Sì. Io partavo in giro le pizze. Vedi? Un'ansia. Vedi? Io avevo sempre l'ansia di trovarmi qualcuno che conoscevo. Tipo... E io anche... Pensa quando venivo nel negozio. Ma che stupido che siamo, posso dire? Che cosa vuol dire? Anche al bar, quando facevo la barista a 15 anni, volevo sotterrarsi. E vabbè, però 15 anni è una brutta età. Sì. Io quindi... Sai cosa ho fatto io? 16 anni. 16. 15 o 16. In discoteca. Facevo quello... Si chiamava sbarazzo. Quello che... Tu qua in discoteca bevi e il bicchiere lo appoggi in qualsiasi posto della discoteca. Per terra, certo. Sì, sì. Io ero quel ragazzo che passava, prendeva i bicchieri, ma spostavo la gente. Tipo, scusami. Una vergogna. Ho fatto due sere. Poi ho detto, papi, io ho vergogna. Ma non è che avevo vergogna di farmi... Avevo vergogna di spostare le persone. Cioè di dire, tipo, scusami, posso? È finito? È l'età in cui hai le vergogne. Sì, anche io. 15, 16, 17 anni. Poi magari ti beccavi il tuo amico, la tua amica. Che ti prendevano in giro, quelli là che magari venivano al bar. Magari te lo lanciavano in terra. Io vorresti... Il tuo caffè. Adesso ci salutano e dico, quando mi lanciavi il bicchiere in terra. Un saluto. Ciao. Sei tua mamma impara al rientro delle vacanze di Natale? Esaurita. Cioè lei non è... Per lei non è stata una vacanza questa. Cioè lei non è stata una vacanza questa. Io ho una settimana all'anno per rilassarmi. Io ho pulito tutto l'anno. A saperlo andavo a lavorare. Sciare, voi siete figli di Milord. Cioè voi pensate di essere figli di Milardari. Siete andate a sciare, avete fatto la bella vita. Vi state un po' montando la testa. Queste valigie io non le pulisco. E poi la classica frase. A saperlo prima, prendevo dieci cani invece di fare due figli. Ultimo pov. Vai. Sei Alessia Lanza e impara un evento. È come se avessi un faretto addosso. Sei molto solare, sempre sorridente, sempre carino. Sorridi con gli occhi. Non saprei fartela la tua imitazione, però se dovessi... È così. Cioè è come un faretto, sei molto... E poi sei sempre un po' quasi chiuso. Piacere. No, davvero, pensi che fosse un po' così. Non è bello? Eh, perché non mi hai mai visto quando mi sta sulle palle qualcuno. Eh, no, infatti. No, no, un bello spettacolo. Com'è che fai? Nera. Arriviamo a un momento che a me piace molto, che in realtà abbiamo già fatto involontariamente durante tutto l'episodio. Che è easy o para? Easy o para, vai. Cartello spingere e tirare sulla porta? Easy. Para per me. Para? Para, sì, sbaglio sempre. Mi fa più para, tipo quando ci sono le porte scorrevoli che devi metterti sotto la foto. Cioè, allora fai... Oh, quelle che girano? No, quelle che girano sono terribili. Vai a fare la spesa e la cassiera inizia a passare tutti gli articoli a una velocità veramente, penso, velocissima. Esatto. Di fare para. Scusi un secondo, poi ti dice, sono 122,76 euro e io tu stai ancora mettendo le cose. E poi cos'è che fa? Inizia a fare la spesa di quello dopo, quindi ti mette quel spartiacqua e quel coso lì che va, tac, e inizia a fare la spesa di tutto. Ancora a pagare? E poi tu ti rimangi, nel senso fai la spesa e quindi metti le robe pesanti, tra virgolette, sotto. Eh, le vuoi fare bene? Cioè, la mozzarella sotto, le uova, i biscotti tutti sfrantumati. Beh, perché io vorrei fare i sacchetti, che ne so, con le cose che vanno nel frigo, le cose fresche. Ok. Ma quando lei me le passa, non so come cavolo sia possibile. Le mischia. Ma cambia tutto il giro e quindi dico, ma come, scusi un secondo, vorrei... Le mischia. Parlare con qualcuno che ha una caccola evidente. Ecco, questa è una mia gran para. Infatti tante volte mi tocco il naso perché ho paura di avere una... Caccola lì. Caccola, io la chiamo Ciccola, una roba lì che mi guarda. E mi è successo, mentre stavo girando Stang in the Sky, vabbè, con i camera, ma comunque c'è un bel rapporto, mi fa la desi, si chiama, Matti, hai una roba sul naso? E io, velo? Pochino più. Beh, guardo lo specchio, ho una roba e faccio, ma dimmelo, c'è nel senso, paurissima. Beh, para per me anche. O anche quando... Para? Para. Quando ti lavi... Io mi lavo i denti 200 volte al giorno, il dentifricio, che lo scopri dopo sette ore che sei tornato a casa e dici, ma la gente non me l'ha detto. Ma perché non te lo dice? Esatto. Io lo dico sempre. Scene di sesso quando guardi film con i genitori? Io faccio... Io forse sto un po' nel telefono. Cioè, quando... Sai che forse non rischio io? Perché mia mamma, tanto dopo il primo quadro del film, si addormenta. Io sono quella che si addormenta. Tu sei quella che si addormenta, quindi in realtà... Easy. Mi fa più imbarazzo con mia sorella, forse. Sì, sì, c'è anche quella linea. Giulia, non farlo tu, eh. Sì. Dico, non fare il pesante, non fare il pesante. Oppure dice... Fumi? Giulia, fumi? No. Guarda che ti... Veramente. No, che ridere. Io sono molto contenta che tu sia venuta a trovarmi. Grazie per avermi invitato, è stato molto bello. Sono contenta, vabbè, noi ci vedremo. Sì. Spero di averte attaccato qualche paranoia. Oddio, oddio. Teoricamente questo è un podcast proprio per fare in modo che... Sì, no, così dopo puoi parlarne con qualcun altro e far... Eh, capito. Ma come sei altruista. Cioè, tu sei più avanti. Io spero di non vomitare oggi. Eccoci qua. Che già questo potrebbe essere un'ottima. Un'ottima di più. E basta. Allora, grazie. Grazie a te. E alla prossima puntata di Mille Pare. Ciao.